Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Tigron43 E quest'oggi siamo qui su iPixel Quest'oggi andremo a giocare le Bedwars ragazzi Sono passato a Minecraft da PC Quindi ho perso la Tigroncraft che avevo dalla Play Però ora sono dalla 1.15 Ma quando rinizieremo una nuova Tigroncraft da PC Lo aggiornerò all'ultimo snapshot Così avremo tutte le novità della 1.16 Ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanella delle notifiche Per non perdervi tutti i miei prossimi video Mettere like E nei commenti scrivetemi Il vostro minigame di iPixel preferito E il vostro server di minigame di Minecraft preferito Così che io possa portare quei minigame che piacciono a voi Ok andiamo in partita ragazzi No ho sbagliato Allora aspettiamo Ok lui va al centro Vi aspetto la handstone E abbiamo fatto Cioè aspetto 24 di Iron Ragazzi io non sono molto forte alle Bad Wars Perché ho iniziato da pochissimo a giocare da PC Quindi ancora non mi sono abituato Ma comunque Cioè già un pochino mi ci sono abituato Ma adesso che siamo passati da PC Giocheremo sempre a PC E poi se volete giocare con me a Fortnite o a Minecraft Su Fortnite mandatemi la richiesta Mentre su Minecraft ditemi come vi chiamate Così che io possa invitarvi nella Tigrancraft Quando la rinizieremo Ok Ragazzi vi ricordo di iscrivervi e mettere like Ok Gli acqua già non hanno più il letto Prendiamo un altro di Iron Poi ragazzi scrivetemi nei commenti E se volete che porti sul canale Che ne so delle mappe Parkour Oppure delle mappe Di building E se volete che porto tipo Ad esempio le Murder Mystery Le Murder Mystery O che ne so Le Build Battle O altri minigame di Ipixel E scrivetemi anche Che ho altri server di minigame di Minecraft Adesso questo qua Vole venire a romperci il letto Quel grigio Spero che non abbia il piccone Se no Ce l'ha distrutto il letto Ragazzi Allora Si affrontano Ma proprio male Ma 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 non dimmi che si è buttato pure il mio compagno Ah si sono buttati a vicenda Cioè il mio compagno ha buttato a terra lui E L'avversario ha buttato Ma 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 vabbè nel frattempo io mi riequipaggio perché sono un pochino senza niente allora facciamo così e abbiamo il piccone d'oro vabbè mi vado a fare la spada di pietra almeno quella e poi è sceso ma dai gli ha lasciato tre cuori raga ok non mi pare mi pare che non abbia rotto niente perché ma ma vabbè eccolo ho messo la trappola il nostro compagno sì però ho capito ho capito che sono un abbo però no vabbè no vabbè facciamo un'altra partita ma ma ecco qua allora poi ragazzi scrivetemi nei commenti il vostro nome di minecraft e se volete giocare con me oppure inviatemi il realm del vostro mondo se se volete giocare appunto con me e iscrivetevi mettete like e se volete giocare con me anche a fortnite inviatemi la richiesta amico vi ricordo come sempre di scrivermi i minigame di ipixel che volete che io porti sul canale e i server di minigame di minecraft che magari potrei portare sul canale ok adesso ragazzi uguale oro l'ho preso l'ho preso vabbè eh te non lo prendi ecco forse anche lui vuole fare la protezione di handstone no di legno no di legno perché intanto la batteria del mio telefono si scarica ragazzi quell'avviso ragazzi ok allora ma dov'è facciamo così oh no ce ne ho 5 pensavo di averne un po' di più di oro ok mi serve uno di oro facciamo così ma il mio compagno dov'è ma 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 sarà andato da qualche parte ahhh eccolo non avevo scoperto ok allora mi faccio la spada di ferro vabbè 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 facciamo quest'altra partita poi ragazzi scrivetemi nei commenti che challenge potrei portare sulle badwords magari gioco tutta la partita nella mia isola oppure gioco tutta la partita senza difendere il letto ah si è svegliato eh lo so che è fk ha detto che è fk ma si bugano sempre le under chest già c'è qualcuno di diamanti devo sbrigarmi a fare la handstone che se no 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 si stanno riparando già i verdi non hanno più letto neanche i gialli hanno più letto che i gialli erano quelli che hanno rotto il letto ai verdi ma va ogni secondo fk questo anche il letto del blu è andato l'ha rotto il giallo quella è una risa fra i blu e i gialli se il mio compagno non va più a fk mi farebbe un favore così che possiamo giocare le badwords bene nooo è andato sono andato si è disconnesso dovrà giocare solo v eh aspetta me lo sono scordato solo v coppia ah no eccolo si è riconnesso ghi lagga un pochino guarda giusto un pochino allora ma che cosa ma ma eh vabbè non dico niente ok 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 mi cosi ho Minions l'altro giorno mentre giocavo a Bedwars ho trovato il pesce secco di Fortnite la skin del pesce secco poi ragazzi quando uscirà porterò sul canale anche Minecraft Dungeons ecco qua e andiamo a riparare il letto allora andiamo qua e si è disconnesso il mio amico mi sa vero allora no qua poi ah no eccolo il mio compagno era andato solo da qualche parte no ma oggi con chi sto giocando vabbè allora i gialli i gialli ecco dove hanno il letto se non sbaglio la Fireball non gli fa niente alla handstand quindi allora ragazzi adesso metto qua questo e così e adesso e adesso andiamo al centro anzi più che al centro andiamo dai gialli facciamo così tu vieni seguimi Alex ok andiamo no vabbè vado da solo smeralti smeraltini stanno lì sopra poi là ci stanno i diamanti i gialli ok i verdi stanno ok c'è una rissa fra i verdi e i gialli prendiamo le Fireball no ok ma ok che dovremmo fare e adesso direi di andare attaccare attaccare no ci stanno quasi quasi che la tiro una Fireball eh no solo che poi ci attaccano e ci distruggono il letto vabbè ma si che la tiro addosso vabbè vedo di farglielo capire al compagno ecco ecco yeah no vabbè andiamo agli smeraldi allora i rosa sono i due pensavo fosse solo uno se no sarei andato al letto dei rosa ah no è l'altra lì allora io direi direi di farmi il piccone di diamante e ora prima vado agli smeraldi e poi quelli hanno vabbè facciamo così dicevo prima vado agli smeraldi agli smeraldi e poi vado a rompere qualche letto va bene ed è uno e lui vuole mettiamola sul letto così se ci assaltano dal letto ho fatto una mezza cavolata giusto mezza secondo me starà dicendo questo è mattissimo proprio più matto ok andiamo da qua sopra ah no vabbè ma io si tiro due file allora ragazzi direi spero che non hanno piccone mi prendo un po' di di handstone vado li chiudo dentro la loro casa e poi gli distrutto no che sciocco che sono ho fatto una cavolata vabbè dai allora 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 ma dov'è l'amico ha messo l'acqua qua ma vabbè proteggiamo un po' il letto o tutti che chiedo cioè stanno vabbè ragazzi allora io mi sono incavolato con i bianchi facciamo così saliamo qua andiamo qua facciamo uno due poi corro qua così nel frattempo che arrivo loro dovrebbero ok 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 ecco vediamo se ora ha capito il mio compagno dove dobbiamo andare cavolo cavolo lo stavo pensando cavolo ma questi stavo pensando proprio cavolo ma questi hanno pure loro le file ball e appunto cosa avevano le file ball mi pare ovvio allora facciamo così così e iniziano a spararmi ma io una fireball io la tiro queste non sono più le bad warts sono le bianchi contro acqua warts oh cavolo salgo 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 eh quelli hanno tanto ferro mi sa che hanno la 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 l'iron forge no 21 no l'ora la lana ha solo il blu raga sta partita cioè qua siamo messi male perché loro ci sparano io solo 34 di lana facciamo così poi così e va bene ora no va bene no la fireball ci serve ok ok facciamo così adesso prima di cadere sembrano c'è solo un bianco è da solo ma what no c'aveva l'arco c'aveva l'arco si c'aveva l'arco sono stato sfortunato che c'aveva l'arco allora facciamo così non capisco perché mi toglie gli upgrade al piccone all'ascio ogni volta che muoio no ho perso la fireball ok ok ecco ecco siamo vicini possiamo no ecco qua no raga mi ero pure buggato mi ero pure buggato quando stavo per andare ok è ancora solo uno il bianco raga mo ho capito tutto però che mi toglie gli upgrade facciamo no ecco qua raga ditemi se anche a voi succedono questi bug perché a me succedono costantemente c'è qualcuno il bianco no questo è carno raga ma dai va bene andiamo a far tutti ma bedward mamma mia non ci credo raga e la si è buggato con qualcuno ecco questo è il pesce secco di fortnite muoversi così posso fare fare vedere eccolo la op per aia c'è la skin del pesce secco di fortnite solo che tutti stanno fermi buggati a lui e non ve la posso far vedere possibile che nessuno si connette va beh eh quest'ultima partita la facciamo in 3v3v3 v3v3 oh no avevano gioinato va beh la rifacciamo in double va Facciamo così E la facciamo I soliti Cioè bug No Ok Ma Riproviamo Scusatemi ragazzi ma Nessuno join Perciò Sto Uscendo E rientrando Una bedwars devo fare Ho cancellato La La Teleportazione So che non si dice così Eh Ciao Eh vorrei tanto giocare Tutte le volte che devo registrare qualcosa Mi va male Facciamo solo No Ok Proviamo le coppie Vabbè ho capito Non è la stessa cosa Ok Facciamo quest'altra partita Ma 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 che schiena Sto compagno Steve L'avevo capito Solo che Non l'avevo visto bene Ragazzi Lasciate like E Vi ricordo che Fra Cioè Porterò anche Gli altri Mini game Di pixel E Scrivetemi Nei commenti Quali volete E Scrivetemi Nei commenti Altri server Di mini game Di minecraft Così che io possa portarli Non dimenticate di iscrivervi E Attivare la campanella Il tasto rosso Il tasto rosso Iscriviti E la campanella Sono fatti per quello Quindi Iscrivetevi Attivate la campanella Delle notifiche Per non perdervi Tutti i miei prossimi video E adesso vi lascio Alla partita No Vabbè Ragazzi Vi ricordo Di iscrivervi E poi Nei commenti Scrivetemi Comunque I vostri server Preferiti Di mini game Di mini game Di minecraft E Come Ad esempio Maglio i server Non li conosco Però I vostri server Preferiti I mini game Di minecraft Cioè Dei server I pixel I vostri mini game Preferiti Così che io possa portarli Sul canale E E poi Vi ricordo Mi dovete scrivere Nei commenti Anche se volete Che porto Le Mordar mystery E le Bill battle E Altri Scrivetemi Il resto Degli altri mini game Di pixel Che vi piacciono A voi Magari Dei mini game Che io non conosco Neanche Ma voi Si E poi Scrivetemi Sotto Nei commenti Se volete Giocare con me A minecraft Il vostro Nome E Oppure Inviatemi Il vostro Realm Che non 43 Mi chiamo Su minecraft E Scrivetemi Anche se Cioè Mandatemi La richiesta Amico Su fortnite Sempre se volete Giocare con me E adesso Andiamo A cercare Di vincere Questa partita Ok Prendiamo La handstone No Qua non posso Metterla È vero Il mio compagno È forte È un forte Steve Ah ragazzi Mi ero scordato Di dirvi A inizio Video Che Ho Rifatto La mia skin Di minecraft E ora È questa Ve la faccio Vedere Senza armatura Ah no Vabbè Adesso È questa Poi Ve la farò Vedere Senza Armatura E Quella Che avevo Dalla play L'ho persa Però Ora Avrò Sempre Questa skin E Poi Quando ci saranno Le festività Come Adesso È Pasqua E Mi sa Che Proprio Oggi Proprio A Pasqua Caricherò Il video Lo stesso giorno Che lo sto Registrando E Potrei Portarmi Portarvi Domani Che ne so La skin Tigron 43 Pasquale Di Pasqua Magari Tigron La mia skin Con Tipo Che Con qualcosa Di Pasqua Magari Le uova Di Pasqua Disegnate Non le so Poi vediamo No 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 Ma Io ho lasciato Un cuore Un cuore Un cuore Uno Ok Ok Questo L'ho 5 Un cuore Vabbè Ok ragazzi Per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Delle notifiche Per non perdervi Tutti i miei prossimi video Vi ricordo Di Iscrivermi Nei commenti Il vostro Nome di minecraft Inviatemi Il vostro realm Se volete giocare Con me a minecraft Inviatemi La richiesta Amico Su fortnite Se volete giocare Con me A fortnite Spolliciate E Scrivetemi I vostri Server Di Minigame Preferiti I vostri Minigame Di minecraft Preferiti E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi